Molte volte i docenti si lamentano che in classe il clima relazionale tra gli studenti è conflittuale, che non c'è fiducia, non c'è collaborazione. Ma cosa si può fare? Come si può riuscire a facilitare un clima inclusivo e relazioni positive tra i nostri studenti? Niente viene a caso, il gioco ci può aiutare in questo perché giocando si impara. Ma con quali giochi possiamo facilitare un clima inclusivo? Questo è l'obiettivo di questo webinar in cui vi presenterò tipologie di giochi per creare conoscenza, facilitare fiducia, esplorazione, relazioni positive, ma non solo. Vedremo anche gli elementi di base dei giochi cooperativi in una visione olistica e alcune esperienze concrete in classe. Tutto questo in quattro ore verrà affrontato in modo teorico, chiaramente, e quindi sarà necessario integrare questo webinar, possibilmente con un corso in presenza, esperienziale, per impadronirsi realmente degli strumenti e di quello che verrà affrontato in questo corso. Vi aspetto! Grazie a tutti!